Lui ha acquistato un iPad 2, 16 giga, contentissimo, super felice, 4 ore di fila ce l'ho fatta, se la rezza dentro ce l'ho fatta Senti, te ce l'hai tutti? Macbook Pro, iPhone, Airport eccetera Ecco, ti faccio una domanda così, se hai il Macbook Pro, che lo prendi a fare l'iPad 2? Eh, l'iPad 2 è curiosità, la portabilità, lo posso portare all'università, non mi dà fastidio, ci carico le immagini, non mi pesa dietro Più che altro è la curiosità, perché quando si entra in Apple non si riesce a uscirne rispetto a Windows